Oggi la nonna ti mostrerà come fare dei meravigliosi fagioli borlotti lessi all'uccelletto Una preparazione antica, sana, gustosa e ricca di proteine vegetali Trita uno spicchio di aglio a cui avrai eliminato il germoglio di gesto interno e taglia un peperoncino Aggiungi le foglie di salvia, un buon filo di olio extravergine di oliva e metti sul fuoco Appena sfrigola, inserisci la passata di pomodoro o i pelati e i pomodori freschi tagliati a pezzetti Un pizzico di sale e lascia cuocere la salsa a fuoco dolce con il coperchio Quando la salsa sarà cotta, aggiungi i fagioli borlotti precedentemente lessati Rigira ogni tanto per evitare che attacchi sul fondo Fai restringere completamente i liquidi I nostri fagioli all'uccelletto sono pronti per essere assaporati Basta un altro pezzettino di peperoncino, qualche sfoglia di salvia fresca e una buona fetta di pane casereccio E ora, come sempre, un grandioso saluto da nonna Pigetto